Tappa a Pietralunga per l'associazione Gubbio Motori che dopo il giro del parco nel Monte Cucco e il primo memorial dedicato all'imprenditore Augusto Mori in una giornata di sole è salita a bordo di una delle auto che ha segnato la storia d'Italia, la Fiat 500 alla volta del comune Alto Tiberino che si prepara per la sua festa più importante il Palio della Mannaglia in programma dall'8 al 14 di agosto. Grazie intanto Gubbio Motori per aver scelto Pietralunga e la sua splendida piazza come tappa intermedia della loro giornata di fronte a queste autovetture del 500 che rappresentano la storia di questo paese e che siano di buon auspicio per questa nazione rispetto al futuro perché hanno testimoniato lo sviluppo industriale dell'Italia. Inizia la settimana più importante dal punto di vista turistico e delle manifestazioni per questo territorio che è il Palio della Mannaglia, una revocazione storica che avrà il suo clou domenica prossima con la disputa del Palio tra i rioni e i borghi ma che nel corso della settimana ci saranno spettacoli, folclore, musica e ci saranno da venerdì sera le taverne aperte presso il Borgo Antico dove si potrà assaggiare menù con i prodotti tipici di questo territorio dell'Umbria. Il raduno delle 500 della Gubbio Motori, una passeggiata tra appassionati di questo modello da Gubbio a Pietralunga passando dalla strada di San Benedetto Vecchio, quindi bel paesaggio con le curve, la giornata è splendida, è stato un modo per ricordare quello che è un modello fondamentale della motorizzazione d'Italia dopo la guerra. La 500 che è ancora molto presente sulle nostre strade è stata prodotta in quasi 5 milioni di esemplari, è un mezzo minimalista ma dopo la guerra negli anni 60 permetteva alle famiglie di abbandonare lo scooter e poter viaggiare anche in 4 persone, anche con molti bagagli, con macchine che adesso fanno sorridere ma in realtà rappresentavano la possibilità di poter viaggiare. Facciamo una bella passeggiata, abbiamo rappresentato un po' tutta la famiglia delle 500 partendo dalle Topolino, c'è una bella 500 B dell'immediato dopoguerra, la C e poi le 500 di nuova generazione tra virgolette perché sono quelle prodotte dall'inizio degli anni 60 fino al 75 quando è cessata la produzione. Mezzo non comodissimo per gli standard ad adesso però molto facile aggiustarla, economicissima nel consumo, quindi una macchinina che merita la memoria a cui gli appassionati l'hanno destinata. Nel ritorno verso Gubbio per le auto prova di precisione a Mocaiana prima del pranzo conviviale a Montelujano.